Non si fermano gli sversamenti dei rifiuti nei cassonetti di Rido Centro. È da tempo che i residenti denunciano il continuo via vai di macchine e camion che carichi di bustoni riversano tutta la loro spazzatura nei bidoni del quartiere, come se nulla fosse. I più presi di mira sono quelli collocati al parcheggio che si trova tra via Vannutelli e via dei Galeoni, probabilmente perché sono i più nascosti, ma non mancano gli incivili che senza alcuna vergogna scaricano anche davanti ai cassonetti ben in vista di piazza della stazione del Lido. In qualsiasi ora del giorno e della notte possiamo vedere delle autovetture, addirittura dal volto dei furgoni che scaricano rifiuti ingombranti o comunque materiali che andrebbero conferiti presso l'isola ecologica per uno smaltimento secondo protocollo. Noi abbiamo chiesto al Municipio 10, abbiamo reiterato l'ennesima richiesta chiedendo delle fototrappole affinché questi incivili siano identificati e sanzionati secondo le norme del caso. Perché secondo lei proprio questi cassonetti vengono presi di mira e non di altri? In che posizione ci troviamo? Prima di tutto qui ci troviamo in un'arteria stradale che convoia l'entroterra verso il litorale e quindi nell'entroterra dove si fa la raccolta differenziata non viene talvolta attuato il protocollo previsto e quindi queste persone vengono a sversare i loro rifiuti all'interno dei cassonetti quindi anche gli sfalci, i materiali di risulta e quant'altro. Dal 2014 praticamente con il porta a porta è stata fatta la differenziata ma non su ossa per cui oltre alle zone limitrofe che vengono a scaricare macchine sane conta che questa qui non è la periferia di Roma ma vorrei cambiare proprio la narrativa e ribaltarla per cui questo è il mare di Roma di conseguenza i negozi che sono innumerevoli ma compresi la nuova ristorazione che sta aumentando in modo esponenziale con la loro somministrazione molto spesso butta i loro rifiuti nei cassonetti domestici noi chiediamo ad esempio che vengano messi dei cassonetti smart qui a Dostia dove si possano gettare i rifiuti con la carta magnetica e possano avere accesso a questo solamente i residenti. Avete mai provato magari qualcuno particolarmente impavido a dire a queste persone no, non si fa, ma fatelo a casa tua? Domande di questo tipo? Personalmente l'ho fatto io e quindi mi è stato risposto noi abbiamo i cassonetti troppo piccoli quindi non c'entrano nell'immondizia quindi da qualche parte dobbiamo buttare.